Cerchio e seno. Dorotea è una delle entità che si manifestano presso lo storico cerchio e seno. Dorotea apporta intense profumazioni del tutto sconosciute ai presenti. Ora, momentaneamente, mi rilascio e prego il caro amico Geno di ammettare e tornare la musica. No, 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 no. Grazie a tutti per le mani di ammettere e tornare la paragia. Buona gioia, buona ristrani. E cari e adorati, siete certi che i miei pensieri non sanno ricordati. Penso di storie, miei bravi e in vero, miei bravi. Questa sera in loro lasciarvi, mi sembra di farvi. Grazie a tutti. Mi sembra di farvi. Mi sembra di farvi un significato. Grazie. Grazie. Mi sembra di farvi. Mi sembra di farvi. Ma la carica è mia. Che sempre io, sempre, mi sembra di farvi. l'attrazione in vita. Ora, mi sembra di farvi. Farvi. Ma la carica è mia. Ogni ossidio del mondo del mondo del mondo. Grazie a tutti.